Stai bene qua? Dai che ti avrò un po' la testa Questo sta con te Stai bene qua? Stai bene qua? Stai bene qua? Stai bene qua Stai bene qua Stai bene qua Stai bene qua Aspetta, come stai? Stai pensando al vostro lavoro e quando ci accade Lo posso fare l'apertura del servizio spalle a voi per piacere? Cioè io devo dire, siamo alla mostra del Cine Il destino mediatico di un film si decide qua, sul Red Card Che quello che accade qua fa poi parlare del film